Pesaro non abbassa la guardia sul contrasto al Covid-19. Anzi, impegno rinnovato nei controlli, sensibilizzazione ai corretti comportamenti e sanzioni alle condotte irrispettose sono i tre punti focali messi sul piatto dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato questa mattina a Palazzo Ducale dal Prefetto Vittorio Lapolla alla presenza di gran parte degli amministratori locali della provincia, forze di polizia, ispettorato del lavoro e ufficio scolastico provinciale. Proprio la scuola è uno dei luoghi maggiormente attenzionati in questo periodo di guardia alta sui contagi. L'intento è quello di predisporre azioni di controllo agli accessi presso gli istituti mentre un altro incontro sarà presto dedicato ai controlli nel trasporto scolastico. Controlli nelle scuole, controlli nei luoghi della Movida. L'incontro del Comitato ha previsto una nuova vigilanza irrobustita nei luoghi maggiormente frequentati dai cittadini durante il fine settimana. Una intensificazione che arriva anche a ruota della nuova ordinanza di obbligo di mascherina all'aperto nei luoghi sensibili all'assembramento predisposta dalla nuova amministrazione regionale di Francesco Acquaroli. Tante azioni dunque per scongiurare sul nascere una seconda ondata di contagi. Contagi che sono tuttora stabili con 35 nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regione Marche, due soltanto però nella provincia di Pesaro Urbino.